Oh mio Dio, oh Dio mio, che cosa hanno fatto? Perché? Perché? Era così tanto bello prima, perché? Perché cambiare per questa cosa orrenda, senza senso, senza significato, senza anima che non rappresenta per niente? La mia Juventus! Questa che abbiamo appena visto è stata la reazione del 99.9% dei tifosi juventini dopo aver visto il logo rivelato l'altra sera. Questo che vedete insomma è un'impressione, infatti, è il nuovo stemma, il nuovo logo, il nuovo simbolo della Juventus, che andrà a sostituire quello classico che noi tutti conosciamo, che era in vigore dal 2004. La Juventus comunque negli anni ha cambiato diversi stemmi, come praticamente tutte o quasi le società calcistiche, e una delle ultime rivoluzioni che mi viene in mente è quella del Manchester City, che ha cambiato completamente il concept del suo stemma solo quest'estate. Sicuramente la Juve però questa volta ha visto più in là, più a lungo di tantissimi altri. Sarò sincero, a prima occhiata, quando ho visto questo stemma, volevo vomitare, non mi piaceva per niente. In realtà l'ho visto addirittura in anteprima, perché quando la diretta della Juventus era programmata per la sera di lunedì, io già nel pomeriggio, nel primo pomeriggio di lunedì, avevo iniziato a vedere questa stemma, questa rappresentazione, e non volevo crederci, non pensavo che la Juve fosse pronta ad un cambio così radicale, non ne vedevo la necessità. Come ho già detto anche in un video del mio secondo canale, l'abitudine alla novità è una cosa difficile per l'uomo, è veramente sempre più complicato abituarsi ad una cosa nuova rispetto ad una vecchia. Per farvi un esempio, probabilmente fra una decina d'anni, quando si cambierà, se si cambierà ancora questo logo, si rimpiangerà questo, perché ci sarà talmente tanto abituati, e si vorrà talmente tanto bene a quel logo, che sarà difficile salutarlo e dirgli addio. Tra l'altro il vecchio logo che abbandoniamo, come già detto, è in vigore dal 2004 e ne ha visto veramente in tutti i colori, come la retrocessione in Serie B per i calciopoli e 5 scudetti consecutivi. Per non parlare della finale di Champions Persa a Berlino, ma ormai quella lì sta cercando di dimenticarla. Riguardandolo a mente fredda e ragionando un po' sul significato recondito di questo nuovo stemma, invece devo dire che sono abbastanza sorpreso e inizia a piacermi. Intanto vi metto qui in sovraimpressione una specie di significato che hanno provato a dare a questo nuovo stemma della Juventus, che per quanto mi riguarda, fra tutte le cose che ho visto, è quello che mi ha maggiormente colpito. Infatti, come possiamo vedere, richiama la J, che è la lettera principale, madre della Juve, tutte le volte che c'è una J maiuscola, come diceva l'avvocato, io mi emoziono. Richiama allo stesso tempo anche le righe storiche della divisa juventina e addirittura lo scudetto, che praticamente è il simbolo della Juventus, dato che è la squadra che ne ha vinti di più in Italia. Se sommiamo tutte queste cose, otteniamo questo nuovo simbolo che a dirla tutta è talmente semplice quanto efficace. Per farvi capire ancora più a fondo quanto è efficace e quanto è commerciale, perché di marketing stiamo parlando, questo simbolo voglio avvalermi di una cosa. Riconoscete quest'altro simbolo? Ebbene sì, la N e la Y stilizzate sono il simbolo di New York e questo è uno dei cappellini, è uno dei simboli più venduti e più conosciuti al mondo. E guardate la semplicità, sono solamente le due lettere, le due iniziali, New York, proprio come la J della Juve. Si sta cercando di utilizzare al massimo il brand e al massimo la popolarità della Juventus in questo particolare momento storico. La Juventus abbandona il classico, perché di classico stiamo parlando, la Juventus ha sempre avuto un simbolo come quelli vecchi. È solamente stato rimodellato e riaggiornato negli anni per essere ancora più moderno. Ma adesso superiamo un'ulteriore era. In questo momento la Juventus abbandona tutto il disegno per passare uno stile minimal e di sicuro successo. E io da tifoso non posso che esserne felice, perché vuol dire che questo garantirà ulteriori ingressi e entrate economiche nelle casse della mia squadra. Che per l'amor di Dio, io non ci guadagno assolutamente niente. Però sto anche pensando a quanto è cambiata la mia Juventus da quando ci hanno messo le mani persone competenti come il presidente Agnelli, Marotta e Paratici. Il primo anno di gestione Marotta, ma ovviamente tutti sbagliano, soprattutto all'inizio, abbiamo comprato gente del calibro di Motta e Martinez. Eh, è il malacca. Chissà che cosa sta facendo in questo momento. A pensarci adesso mi vengono i brividi, anche perché in quella Juventus gente come Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffon non giocavano ad alti livelli. E sappiamo tutti oggi cosa rappresentano. Se penso che solo dopo qualche stagione, invece, è cambiata completamente la musica perché hanno saputo mettere le mani bene sui giovani e addirittura sul marchio e soprattutto sui soldi, ci siamo potuti permettere gente come Egoina 90 milioni e vendere Pobba a 100. La forza della Juventus non è solamente nel campo, non è solamente nella programmazione di tutti i giovani che sta comprando il mercato di gennaio della Juventus, rincona a parte, è tutto orientato sui giovani, Caldara, Orsolini e tanti altri. La forza della Juve è anche contrattuale, societaria ed economica. E sono sicuro che questo marchio andrà assolutamente in un'unica direzione, quello di aumentare ulteriormente gli introiti. Io capisco che possa essere difficile salutare una cosa che ci ha fatto tanto emozionare nel corso degli anni, ma ripeto, ancora una volta, è solamente questione d'abitudine. Anche perché sto vedendo qualche concept di qualche maglia per il Prochmano, ve li metto anche a questi, qui in sovrimpressione, e sono veramente sorpreso, in positivo, perché tutte queste cose mi piacciono. Ovvio che tutto quello che ho detto all'interno di questo video è puramente soggettivo, guai a essere oggettivi. Semplicemente perché a me può piacere e può piacere anche tutto il ragionamento che c'è dietro. A te che stai guardando il video può fare veramente cagare e può non importarti niente dell'aspetto economico. Che poi, anche se avessero disegnato uno stemma ancora più brutto di questo, se poi il prossimo anno mi compri un altro top player a 80 milioni e che magari gioca a centrocampo italiano e adesso è in Francia la PSG, sono ancora più contento. Ma io non ho fatto nomi, eh? Non ho fatto nomi, Marotta, giuro. E comunque sono sempre convinto di una cosa, tutte le volte che la Juventus si muove in una direzione, facendo un passo così lungo, così importante, è perché hanno analizzato bene tutto. E quindi io sono sempre più tranquillo nelle mani della mia società. Ma anche in questo caso questa è la mia opinione e tu, proprio tu che stai guardando questo video, qui sotto nei commenti puoi smentirmi come e quando vuoi. Ciao ragazzi, ci vediamo più vecchi. Ciao ragazzi, ci vediamo più vecchi.